La città diventa scuola e gli spazi museali della Galleria d'Arte Moderna Riccioddi e di Palazzo Ex Enel, tra Via San Siro e Via Santa Franca. Si trasformano in speciali aule didattiche per gli alunni. Lo prevede il progetto FATA, acronimo dei quattro elementi naturali, fuoco, acqua, terra e aria, deliberato oggi pomeriggio dalla Giunta Tarasconi. L'idea consiste nell'organizzazione di lezioni innovative all'interno di questi due poli culturali e artistici del Centro Storico entro la fine di ottobre. Lo scopo è quello di offrire un'alternativa alle sole spiegazioni frontali delle materie. A turno, durante l'anno scolastico 2023-2024 e poi nel successivo, circa 30 classi quarte e quinte delle scuole elementari, più o meno 700 bambini totali, traslocheranno per una settimana ciascuna nei locali messi a disposizione gratuitamente da Riccioddi e Palazzo Ex Enel, in orari mattutini, dove saranno accolte da team educativi composti dai loro insegnanti, esperti e figure per la crescita dei più piccoli. Il progetto FATA, Scuola Diffusa, è un tentativo, è una sperimentazione di innovare l'attività didattica utilizzando la bellezza e nuovi contesti educativi. Abbiamo avuto la disponibilità e di questo devo ringraziare la Galleria Riccioddi e la Galleria XNL, i loro presidenti e direttori e vicepresidenti, per aver messo a disposizione degli spazi per sperimentare un nuovo modo di fare didattica, utilizzando appunto nuovi contesti, nuove metodologie e favorendo l'esperienza e la relazione. Per realizzare FATA, il Comune stanzia 117 mila euro destinati a garantire lo svolgimento del progetto, tra cui l'affidamento dell'attuazione a un soggetto del terzo settore.